Ciao, sono Happy e voglio aiutarti a organizzare al meglio il tuo viaggio a bordo del Bernina Express. Ti stai chiedendo quanti giorni ti servono per viaggiare sul trenino rosso del Bernina? A te la scelta! Il Bernina Express parte da Tirano e arriva a San Moritz. Puoi acquistare un biglietto di andata e ritorno in giornata e goderti tutta la bellezza delle tappe intermedie. Se vuoi passare una notte a San Moritz, ti basterà comprare il biglietto di ritorno per un giorno successivo. Se invece preferisci viaggiare più giorni e senza limiti, scegli il pass dei grigioni e preparati a una vacanza indimenticabile. Sai già quale treno scegliere? Ti spiego le differenze. L'itinerario è sempre uguale. Quello che cambia è la carrozza, di linea oppure panoramica. Il treno con le carrozze di linea ti permette di viaggiare senza vincoli di orario. Potrai infatti ottimizzare al massimo il tuo tempo, perché ne parte uno ogni ora sin dal primo mattino. I posti a sedere non sono prenotabili, ma niente paura. A Tirano e a San Moritz puoi salire sul treno già prima della partenza, così da scegliere con calma il tuo posto preferito. Con questo treno potrai organizzare al meglio il tuo viaggio in ogni stagione dell'anno. Potrai ammirare il panorama in tutta la sua bellezza e scattare foto meravigliose senza i fastidiosi riflessi dei vetri. I finestrini si possono abbassare. In alternativa puoi scegliere il treno con carrozze panoramiche. Ampie vetrate a cupola per una veduta più estesa, ma non potrai abbassare il finestrino. Prenota in anticipo. I posti sono limitati, numerati e vincolati a uno specifico orario di partenza. Questo treno è ideale per fare un viaggio non stop da capolinea a capolinea. Se scendi dal panoramico, infatti, perderai il posto a sedere e dovrai continuare su un treno di linea. Prima o seconda classe? Le carrozze di seconda classe sono moderne e confortevoli, mentre la prima classe offre maggiori spazi. Se il tuo treno panoramico di seconda classe è al completo, prova a chiedere la prima classe. Come si acquistano i biglietti? Organizza il tuo viaggio con il giusto anticipo e in tutta calma. I biglietti sono già acquistabili 90 giorni prima della data del viaggio. E se scegli il treno panoramico, prenota in fretta. I posti sono limitati. Ti bastano pochi semplici passi. Calcola il preventivo. Completa la registrazione sul sito. Effettua la richiesta d'acquisto. Se hai scelto di viaggiare su carrozze di linea, procedi al pagamento e ricevi subito il voucher di conferma del tuo acquisto. Se hai scelto il treno panoramico, preautorizza subito l'importo. Elaborerò personalmente la tua richiesta e riceverai il voucher e la debito sulla tua carta una volta verificata la disponibilità di posti. In caso contrario ti contatterò e mi dirai se vuoi cambiare data o viaggiare con un treno di linea. Non ti resta che partire. Buon viaggio!